Riparte dalla tenuta Santi Giacome e Filippo la nuova stagione della Megabox Vallefoglia, la prima in A1. La squadra del presidente Ivano Angeli debutterà in campionato il 10 di ottobre a Conegliano. Un'emozione sicuramente grande, poi quest'anno ancora di più perché comunque essere saliti di categoria a massimo livello della pallavolo femminile è qualcosa che non è per tutti. Quindi modestamente noi ci siamo riusciti come società, come gruppo di imprenditori qui locali, quindi siamo orgogliosi di questo. Si gioca a Urbino purtroppo per situazioni che a Vallefoglia non erano permesse e comunque noi dovevamo giocare da qualche parte. Il titolo ce l'avevamo, abbiamo scelto Urbino perché forse nella situazione di scelta fra Pietro e Urbino, Urbino era quella che ci dava più caratteristiche migliori per fare il campionato. Il nostro obiettivo primario è quello della salvezza, speriamo di raggiungere il più presto possibile, magari se poi questo avviene possiamo toglierci anche qualche altra soddisfazione, ma comunque l'obiettivo primario è la salvezza perché arrivare in A1 e ambire a posizioni maggiori non è auspicabile. L'obiettivo è quello da salvarci assolutamente perché è una società che è molto cresciuta in pochissimo tempo, quindi basti pensare che è il terzo anno di fila in cui siamo debuttanti, e questo va dell'incredibile perché eravamo debuttanti in B1, debuttanti in A2 e siamo debuttanti in A1. Adesso è il momento di fare le cose con calma perché comunque le prime 6-7 in classifica hanno degli obiettivi che noi in questo momento non possiamo porci, siamo una matricola, quest'anno salvarsi sarà il nostro scudetto.